Il tempo del Bari, ma prima del gol subito comunque Donnarumma era stato il migliore del Bari, quindi vuol dire che la squadra continua a concedere molto. E poi ho visto i soliti difetti difensivi che sono riemersi. I due gol presi dal Bari sono imbarazzanti. Il primo per una papera del portiere, il secondo sul piano difensivo proprio non ci siamo. È evidente che Nicola avrà capito che ha tanto, tanto da lavorare e parliamoci chiaro, la classifica è la cosa che preoccupa di più. Il Bari ne ha soltanto sei alle spalle ed è un Bari che sta per affrontare la capolista. Quindi lo avevamo detto in passato, lo diciamo ancora. Gennaio non è lontanissimo, ma preoccupiamoci di organizzare bene la campagna di rafforzamento. Lo diciamo a chiare lettere. E allora vediamo le immagini di questa partita sfortunata del Bari nel servizio di Nando Nunziante. Il Bari scivola sul terreno bagnato di Bologna nella partita dedicata a Klaas Ingeson, gladiatore di entrambe le squadre, scomparso a soli 46 anni. Nella sfida fra nobili decadute i primi a farsi sotto sono i padroni di casa. Su un pallone dalla destra Bessa spara a colpo sicuro. Miracolo di Donna Rumma che poi anticipa il tappin di acqua fresca. Ma il Bari c'è, donati con un colpo di tacco serve Capitan Caputo che sotto misura però conclude sull'esterno della rete. Poco dopo si infortuna a Defendi, Nicola fa entrare salviato. Al 31esimo azione tambureggiante del Bari, Galano per due volte, prima di destro poi di sinistro, ha l'occasione di insaccare ma Coppola chiude la porta felsinea. Ribaltamento di fronte, botta al volo di acqua fresca, altro miracolo di Donna Rumma che però non si ripete a 20 secondi dallo scadere del terzo minuto di recupero quando non trattiene il destro dal limite di Laribi, doccia fredda e tutti negli spogliatoi. Il Bari torna in campo nella ripresa molto determinato. Caputo si fa anticipare su un ottimo cross di Schaudone che poco dopo si fa ammonire. Salterà la partita con il Carpi. Nicola gioca il tutto per tutto, sostituisce Ligi e Schaudone con Stevanovic e De Luca e proprio i due neo entrati confezionano una buona occasione ma Coppola riesce ad anticipare l'attaccante bianco-rosso. A metà ripresa si rifà sotto il Bologna, la stafilata di Laribi finisce alta ma è solo la prova del raddoppio, Zucculini spinge sulla destra, la difesa del Bari va in bambole per Laribi e un gioco da ragazzi insaccare da due passi la rete del 2-0. Il Bari non si arrende, Sabelli ruba palla a centrocampo, serve un ottimo pallone in area a Stevanovic che però non inquadra la porta. Bianco-Rossi ancora avanti con la forza della disperazione ma non c'è nulla da fare. Prima sconfitta per il tecnico Nicola che raduna la squadra a centrocampo e poi va a salutare i 3.000 tifosi bianco-rossi in curva sud. Bari ha due punti dalla zona play-out e sabato arriva al San Nicola la capolista Carpi. Franco, dunque squadra troppo leggera in difesa, cos'altro non ha funzionato? Io credo che si debba pretendere sempre di più da quelli che entrano nella ripresa perché se li faccio entrare perché voglio cambiare l'abito della squadra, se non incidono diventa un problema. Quindi io credo che Nicola pretenda giustamente molto di più dai cosiddetti panchinari. Fra l'altro dobbiamo segnalare purtroppo che un gruppo di tifosi del Bari si è reso responsabile di una sorta di piccola razzia in un autogrill dell'autostrada. Un episodio che non è nuovo insomma per la storia del Bari. Sì, purtroppo si ripete e devo dire che macchia invece la bellissima immagine dei tifosi del Bari che in 3.000 vanno a Bologna. Vedi, basta un niente per macchiare una domenica. Poi, pochi sconsiderati. E veniamo alla Lega Pro.